12 novembre 1969. Il giornalista indipendente Seymour Hersh pubblica un'inchiesta sul massacro di 347 civili avvenuto in un villaggio del nord del Vietnam. Il mondo scopre Mi Lai e l'orrore di una strage è taciuta per un anno dai vertici militari americani. È il 16 marzo del 1968. Dopo uno scontro a fuoco con i Viet Cong, il tenente William Cully ordina la rappresaglia. I soldati americani massacrano un intero villaggio, in gran parte donne, vecchi, bambini. Grazie.